Una scelta destinata a fare discutere e che potrebbe provocare qualche ricaduta sul piano politico-amministrativo in tutta la Valle di Gezzo. Stiamo parlando della volontà del Comune di Malesco di uscire dall'Unione Montana. La decisione è stata presa dal Consiglio Comunale, che si è riunito nei giorni scorsi. Era l'ultimo dei dieci punti all'ordine del giorno, questo relativo al recesso dall'ente montano, ed è stato illustrato dal Sindaco. Come sapete, dell'Unione sono stato anche Presidente, poi ho lasciato la carica per problemi personali di incompatibilità con alcuni colleghi, ma la scelta che portiamo ora in discussione, ha chiarito subito Enrico Barbazza, si basa solo su presupposti legati ad aspetti amministrativi e contabili. Il Comune di Malesco in tutto questo tempo ha sempre pagato molto in termini di contributi economici all'Unione, soprattutto perché è il Comune più grande, ma l'analisi dei costi e benefici non è stata così generosa nei nostri confronti, ha precisato Barbazza, che poi ha aggiunto. Il nostro Comune è in grado di gestirsi autonomamente, poi valuteremo ovviamente una convenzione con un'Unione vicina, o la stessa Unione Valle Vigezzo, per la gestione del fondiato e le funzioni montane, una scelta insomma dettata esclusivamente da questioni di risparmio. L'Unione montana Valle Vigezzo, come tutte le altre, ha sempre meno risorse, ma i costi del personale ci sono e nel caso in cui l'ente non sia più in grado di sostenerli, questi dovranno poi ricadere sui singoli comuni che ne fanno parte. Ripeto, ha precisato il Sindaco di Malesco, noi come Comune siamo strutturati per poterci gestire autonomamente. Quindi la votazione, con tutto il Consiglio a favore, tranne l'astensione di Alessio Bonzani. L'uscita vera e propria è fissata dal 1 gennaio 2021. Con l'abbandono di Malesco, l'Unione Vigezzina scende quindi a 5 comuni, Craveggia, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno e Villette. Druogno già non ne faceva parte, avendo aderito a suo tempo all'Unione Montana delle Valli dell'Ossola.